buongiorno a tutti quanti ragazzi benvenuti nel blog info 5 stelle io mi chiamo arena salvatore tutti mi conoscono con il soprannome di scorpion m5s ragazzi stamattina ho rinnovato la mia testera elettorale visto che l'avevo scaduta ma voglio dirvi una bella cosuccia ragazzi praticamente io vengo dal centro di palermo che visto che ho finito di lavorare sto a borgonovo in periferia praticamente ho visto che stamattina c'era un massiccio schieramento di polizia parlando con le persone ho saputo che c'era il nostro caro amico renzi praticamente c'era un esercito schierato più un elicottero che era sopra la testa di manifestanti che erano studenti ragazzi quello che ho visto è che la polizia li ha caricati ho condiviso un link sul mio blog dove c'è il video potete andarlo a vedere non so se sono ancora in diretta live ma potete vederlo lente a caso quindi invito ai cittadini ragazzi di 4 dicembre di andare a votare no perché onestamente io non mi fido del signor renzi ho letto il quesito referendario ed è molto molto vago cioè non è come vi posso spiegare le ragioni del sì ci sono ma non vengono riportate anche le ragioni del no c'è solo una paginetta dove ci sono le immagini di grillo d'alema e quant'altri senza specificare le ragioni del no quindi essendo che non mi fido e poi perché mi sono informato visto l'articolo 70 scritto dal partito democratico io onestamente io e la mia famiglia voteremo no quindi io vi invito domenica ad andare a votare e votare no mi raccomando quindi facciamo in modo di mandare a casa il governo renzi ora vi saluto perché sono alla guida visto che la strada è anche libera non c'è problema quindi ora vi saluto e ci becchiamo alla prossima ragazzi quindi alla prossima notizia ciao a tutti